Buongiorno ragazzi, io sono la dottoressa Federica Angiuli e sono una psicologa. Oggi vi parlo dello sportello Luma Ascolta che è presente qui all'università ormai già da un anno ed è gratuito per tutti voi studenti. Questo sportello ha due scopi. Da una parte è quello di aiutarvi a scoprire i vostri punti di forza, le vostre risorse e trovare insieme dei modi per poterle mettere in campo. Dall'altra parte è quello di potervi aiutare a gestire delle difficoltà che normalmente possono subentrare in un contesto universitario. Quando parlo di difficoltà faccio riferimento alla gestione delle emozioni come l'ansia per esempio oppure la rabbia. Oppure faccio riferimento a un calo motivazionale o a un blocco per l'esame o a un calo dell'autostima. O quando abbiamo la mente piena di pensieri o un momento particolare di stress. Questi sono vari requisiti per il quale potete rivolgervi appunto a questo sportello. Io penso che sia un valore aggiunto e che possa darvi una mano nell'affrontare il percorso universitario. Potete mandare un'email allumascolta.it e io vi risponderò personalmente.